Mamma mia, mamma mia, siamo tornati ragazzi, siamo tornati dove meritiamo di stare, qua. Proprio qua, tra le migliori d'Italia, dove questi colori meritano di stare. Prima di tutto, prima di iniziare, ci tengo a dire una cosa fondamentale, non è mai banale. Sto parlando di Ranieri, perché Ranieri ha preso una squadra quattordicesima, quattordicesima, con un allenatore che non si può definire neanche tale. Da Liberani si è passato ai Ranieri, mai, mai, ma come penso nessuno, quindi siate sinceri, mai mi sarei immaginato di trovare il Cagliari già, già in Serie A dopo un anno. Perché va bene tutto, arrivarci al playoff, e l'ho sempre detto, ma io ero convinto che dopo il playoff era molto difficile già arrivare in finale, per me, e invece no, mi sbagliavo. Questa squadra ha ottenuto certi valori dello sport che prima non aveva con i Liberani. Ha ottenuto certi valori umani che gli ha permesso di essere più collettivi, di essere più squadra, di lottare su ogni pallone. Nonostante comunque il Cagliari avesse già una squadra ben rodata, forse di più anche delle altre squadre, però le altre squadre erano più collettive rispetto al Cagliari, quando c'erano i Liberani. Poi adesso con Ranieri è cambiata la musica e finalmente siamo in Serie A. Guai, guai, guai se non rimane Ranieri. Guai se non rimane Ranieri. Io non voglio neanche minimamente pensarci, quindi Giulini, pensaci tu, ma penso che rimanga perché mi sembra molto strano che Ranieri se ne vada, ma in caso, in caso, avesse una minima intenzione di andarsene, Giulini, guai, guai se lo fai andare via, guai. Io te lo sto dicendo, guai, guai se fai una minima cazzata delle tue, guai, non farlo andare. Io lo sto già dicendo in preventivo. Poi, amici baresi, ma cosa è successo? Per usare una citazione di un altro tifoso di un'altra squadra, però. Ma cosa è successo? No, perché vi vedevo molto gasati con 60.000 baresi allo stadio. Infatti, complimenti per la vittoria di questo trofeo, tanto ambito e tanto importante. Proprio appositamente per voi, si chiama Trofeo 60.000 a Baresi allo stadio. Grandissimo trofeo, complimenti vivissimi perché veramente non è facile vincere un trofeo di tale caratura e di tale importanza. Complimenti vivissimi. E no, cagatemi ancora la minchia sotto i commenti del mio ultimo video. Perché grande tifoseria, grande tifoseria che caga la minchia, però invece di sostenere la sua squadra, pensa a rompere le palle sotto i commenti di tifosi di altre squadre. Ma cosa ve ne frega? Anzi, adesso invito solenemente tutti coloro che tifano il Cagliari ad andare come delle sanguisughe a rompere i coglioni sotto ogni post Serie B, Cagliari, Bari, anche di chi non c'entra niente. Voglio vedere anche se sono sotto il post dell'Inter che ha perso in finale di Champions contro il City, ma voglio vedere più commenti di quelli del Cagliari che godono per la sconfitta del Bari e per la vittoria, per il passaggio in Serie A. Quindi voglio veramente che i tifosi del Cagliari siano uniti sotto i commenti a rompere i coglioni, come hanno fatto i tifosi della Serenitana e del Bari, ma veramente rompere i coglioni, perché è facile prima della partita a dare fastidio. Voglio vedervi dopo l'esito, facile, vero? Poi una volta che perdi, vediamo adesso se i tifosi del Bari esistono ancora oppure no. Perché comunque è vero, è vero, hanno cagato la minchia dall'A alla Z fino all'inizio della partita. All'86esimo hanno inquadrato tifosi del Bari che stavano già esultando e quanto godo che proprio il giocatore, forse più criticato da me, l'abbia messo dentro. Il giocatore che non doveva esserci per me questa stagione l'abbia decisa e ci abbia mandato in Serie A. Io veramente chiedo scusa anche a Pavoletti oggi, chiedo scusa anche a Pavoletti. Pavo, rimani anche a 45 anni al Cagliari. Chiedo Venia, va bene? C'è proprio Pavoletti al 94esimo così, una codura incredibile. Non ci speravo più veramente, non ci speravo più perché Baby Gang importa, stava parlando di tutto per il Bari. Cioè mai, mai e poi, vabbè, diventerà forte classe 2009 quello che volete, ma Baby Gang importa veramente. Una cosa di quelle incredibili. Stavano, ecco, vedi, mi ricollego, stavano cagando la minchia i tifosi del Bari. Dovete ringraziare il portiere perché altrimenti avremmo vinto noi. Vabbè, voi cosa dovete fare al ritorno? Ringraziate che non vi abbiamo sussato 5-0. Ringraziate veramente che non vi abbiamo aperto in due, letteralmente. Ringraziate il cielo veramente al vostro Baby Gang importa perché altrimenti non so come sarebbe finita la partita, vi avremmo umiliato a casa vostra. Quindi state zitti veramente e pensate alla parita tattica che ha fatto il vostro allenatore invece di continuare. Anzi no, dovete nascondervi che è diverso. Però non voglio neanche parlare, mi sono soffermato troppo sui tifosi del Bari però se lo meritavano un po' e se si meriterebbero anche di più però mi fermo qua sinceramente con l'isfotto perché poi giustamente Ranieri ha zittito il Serie B, Serie B dei tifosi del Cagliari e ha anche ragione Ranieri assolutamente. Partita tattica ragazzi, il Cagliari ha dominato il Bari, ha dominato il Bari. Stavamo giocando a palla avvelenata praticamente quindi non mi stupisco del fatto che li abbiamo distrutti sotto ogni punto di vista e il risultato è più che meritato, più che meritato. Per le due partite andate al ritorno abbiamo distrutto il Bari sostanzialmente. Già dalla partita col ritorno però sommando la quella dell'andata posso dire che il Cagliari ha giocato meglio assolutamente. Nandez non so che cosa abbia avuto ma penso che abbia avuto un acciacco assieme a Mancosu però pensavo che entrasse Nandez sinceramente. Invece non è entrato però alla fine l'abbiamo comunque spuntata e tra l'altro sono stati Di Pardo e Falco sono stati riscattati, cioè è partito il rinnovo automatico di contratto perché siamo in Serie A. Sono contento per Di Pardo perché è un ragazzo da scoprire, ancora da scoprire secondo me, per Falco Nì perché comunque va bene Falco per la Serie B, per la Serie A, non so quanto possa essere utile alla causa. Però tornando alla partita, Makumbu chiedo scusa ufficialmente d'Antoine Makumbu, chiedo scusa a Di Kele, Di Kele perdonami, Di Kele perdonami, perdonami per non aver creduto molto in te, perdonami, perdonami sei il migliore in quel ruolo, va bene? Sei il futuro Andrea Pirlo della nostra squadra, va bene? De Iola non ha giocato, però posso dire che quando c'era da steccare, ha steccato, quindi sei il mio mito. In questo di San Camino sei il mio mito e non c'è altro da aggiungere. Poi la difesa, vabbè, solida come sempre, ma di questo non avevo dubbi. E poi l'attacco, diciamo che la Padula aveva letteralmente tre giocatori del Bari. Infatti ho goduto quando poi Ranieri l'aveva capito, ho fatto entrare Prelec come Prelec e poi Papoletti. Aggiungendo più punte, è chiaro che tutti i tre difensori del Bari, o due quelli che erano, perché a volte si metteva anche un terzo giocatore a coprire la Padula. Diciamo che non era al massimo per il difensore del Bari, perché con tre attaccanti non è che puoi marcare solo la Padula, quindi ha fatto non bene, ma benissimo Ranieri. Mi è piaciuto molto anche quando ha sostituito Luvumbo, che molti potevano non capire quella mossa, ma è stata efficace e geniale. Uno, perché dovevi fare entrare Pavoletti e due, perché Luvumbo si vedeva che stava sbagliando gli ultimi palloni e quindi non era più fresco come prima ed era giusto toglierlo per dare spazio a Pavoletti. Non era più lucido. Luvumbo, e ci sta, perché comunque è classe 2002, ma farà tutto il tempo del mondo per crescere e lui deve essere confermato, mi raccomando, non facciamo anche qua stronzate. Detto questo ragazzi, ce ne andiamo in Serie A, ce ne andiamo in Serie A. Sono tentato a prendere l'abbonamento in due secondi, preso, bam. Ragazzi siamo in Serie A, siamo in Serie A e ci vediamo presto ragazzi. Parlo a tutte le 19 squadre della Serie A dell'anno prossimo. Ci vediamo.